Sono stati furbi come le volpi, si sono mimetizzati come i topi e hanno approfittato della mancanza delle gatto. Poi sono fuggiti come le gazzelle e adesso i leoni li cercano. Non siamo né nella foresta africana e nemmeno alla giardino zoologico, bensì a Sciacca. E dove? In un supermercato che è stato beffato e poi rapinato. Sì, perché pensate, i ladri sono entrati dentro come clienti, poi si sono nascosti chissà dove, forse tra scaffali e magazzini. E così, quando i gatti hanno chiuso le saracinesche, i topi sono saltati fuori e hanno razziato le casse. Tanti soldi ancora da quantificare. Poi, appena sono state risollevate le saracinesche, loro, i ladri sono scappati, indisturbati. Adesso polizia e carabinieri sono alla ricerca di tracce e impronte. Forse sarà interessante anche esaminare le immagini delle telecamere dell'impianto di video sorveglianza. Così come ad Agrigento, dove i poliziotti della squadra volanti, capitanati da Corrado Empoli, hanno tra le mani il filmato delle telecamere della banca Sant'Angelo, al quadrivio Spinasanta, vittima di un assalto alla cassaforte. Due ignoti hanno rubato nella stessa zona, in via 25 Aprile, una Fiat 1 bianca, come i fratelli Savi. Poi uno è entrato in banca, avvolto scoperto e armato. Il complice ha atteso fuori, pronto per la fuga. Il bottino è a cinque cifre, 43.000 euro, denaro contante, che forse adesso viaggia verso l'est Europa. Sì, perché alcuni testimoni hanno raccontato che l'accento del rapinatore sarebbe stato straniero con una inflessione slava.